1.200.000 euro da destinare per tre anni a sostegno del bilancio dell'AMA, l'azienda della mobilità aquilana che non versa in buone acque. Ed è polemica a scagliarsi contro la proposta deliberativa contenente la variazione di assestamento generale e la salvaguardia degli equilibri in relazione al bilancio di previsione 2019-2021 per poter far spazio appunto al finanziamento dell'AMA sono in particolare le opposizioni che in Consiglio Comunale questa mattina hanno alzato le barricate contro un provvedimento, dicono, che impoverisce la città. Una situazione, quella della municipalizzata del trasporto pubblico locale, molto complessa, avendo infatti chiuso in rosso gli ultimi tre esercizi con l'ultimo che deve essere ancora approvato. Non si può chiedere al Consiglio Comunale di prevedere e di approvare una variazione senza sapere cosa si farà di questi fondi, come verranno utilizzati, con quale procedure amministrative. Quello che sconcerta invece è la rifrattarietà da parte dell'amministrazione, soprattutto dell'assessore Mannetti, che non si è mai degnata di venirci a relazionare sullo stato dell'arte. Ancora più grave è che queste somme vengono tagliate, tolte, a servizi a capitoli importanti, tipo il verde, la manutenzione, la pulizia, i cimiteri, e tutti sanno che l'Aquila è lo stato di abbandono, di sporcizia. E mentre procede il percorso di confronto e di redazione del nuovo piano regolatore dell'Aquila, verrà costituita una commissione di indagine sull'evoluzione del patrimonio immobiliare dal 2009 a oggi e sull'utilizzo dei fondi relativi al cosiddetto 4% proveniente dal bacino finanziario della ricostruzione. L'importante è che adesso queste risorse finanziarie che ammontavano a circa 220 milioni destinati alla ricostruzione economica vengano per quanto riguarda i fondi restati, che sono più di 100 milioni, destinati a interventi che siano realmente utili alla ricostruzione economica della città e ne ha assolutamente bisogno. E gli altri valuteremo l'utilizzo, il recupero di economie per reinvestirli su quello che il Comune riterrà opportuno e anche per velocizzare i tempi.